nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen ciao a tutti ecco siamo arrivati all'inizio della settimana santa oggi domenica delle palme vogliamo meditare questo ingresso di gesù in gerusalemme questo inizio della passione di gesù e ti invito oggi ad entrare in questo mistero a meditare passo per passo la passione di gesù ma di modo particolare vogliamo fermarci nella seconda lettura da lì della lettera di san paolo ai filippensi cristo gesù pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua varianza con dio ma spoleo se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini apparso in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce per questo dio l'ha esaltato e ha dato il nome che al di sopra di ogni altro nome perché nel nome di gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami che gesù cristo è il signore ecco oggi il vangelo di erno è la passione è la passione di gesù il racconto del nostro mistero del mistero dell'uomo di questo dio che si è fatto uomo fino in fondo e a che punto dio è arrivato a spogliarsi se stesso anularsi ad abbassare al massimo possibile per amor tuo ad entriamo nella settimana santa una settimana in cui siamo chiamati per essere più intimi al signore siamo chiamati a ravvicinarsi al signore con la preghiera con il silenzio lasciando che il suo amore penetri la profondità del nostro cuore e oggi vogliamo meditare questa parola pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geroso la sua uguaglianza con dio ma spogliò di se stesso assumendo la condizione umana nel mistero di questa settimana vediamo cristo che si sfoglia cristo che si lascia crucifrigere cristo che si lascia condannare per amore e lui lo fa per amor tuo lui tutto soffre perché sa che la sofferenza non è vana nella vita di un cristiano che la sofferenza quando è vissuta nell'ottica di cristo ci porta a una gloria maggiore lui ha accettato la morte per dire che era più grande della morte lui si è fatto umilazione lui si è fatto povero lui si è fatto schiavo per farti libero per darti la libertà per farti vivere una vita in comunione con dio e quindi non possiamo dimenticare di guardare il crucifisso e dire signore grazie 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 perché hai fatto questo e lo fai in ogni santa eucaristia per amor mio per oggi vogliamo pure proclamare il signore come il nostro re come il signore del signore usana al figlio di davide usana al re del re e non vogliamo farlo come gli altri che usanavano il signore ma che dopo gridavano crucifigio vogliamo veramente chiedere signore che in questa domenica dove iniziamo la settimana santa consacrare il nostro cuore la nostra anima al signore dicendo signore si è il re della mia vita prende signore l'autorità della mia storia fa sì che ciò che vivo sia nella pienezza della tua volontà permettiamo ai signori di entrare oggi lui come è entrato in gerusalemme per vivere la passione vuole entrare nella tua vita per vivere con te la tua passione non importa quello che stai vivendo qui stai soffrendo in questo momento ma quel che importa con chi sei quindi permette che dio entri nella tua gerusalemme permette che dio viva la tua passione la tua croce il momento di sofferenza che stai vivendo perché dopo la morte c'è la risurrezione dopo la morte non è l'ultima parola per un cristiano perché noi crediamo in un dio vivo e crediamo in un dio che è molto più potente della morte della sofferenza e della passione e perché crediamo in questo sappiamo il valore della sofferenza sappiamo il valore della nostra passione della nostra condizione umana se dio pur essendo dio si è umiliato e si è fatto uomo anche e soprattutto nella sofferenza che anche noi possiamo imparare da lui ad abbracciare la nostra croce e vivere con dignità il nostro soffrire la nostra passione che in questa settimana possiamo di modo particolare invocare il signore per dire signore io voglio rinascere con te voglio morire con te in questa quaresma e con te rinascere per una vita piena per una vita vera quindi ti auguro in questa domenica una santa domenica che il signore veramente sia il re della tua vita della tua storia della tua famiglia che dio ti benedica ciao a tutti